ciao marcello grazie per aver accettato l'invito buongiorno 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 come sai questo è un progetto che è nato più o meno un anno fa e ha come obiettivo quello di tanto dare voce a tanti insegnanti per affrontare temi legati alla scuola temi che si dovrebbero affrontare nei consigli nei collegi docenti ma come sai spesso si parla di altro parla di burocrazia di cose che magari hanno anche una certa importanza però si tende un po trascurare temi legati alla didattica temi legati alle proposte per migliorare la scuola quindi questo è quello che cercheremo di fare oggi però prima di inoltrarci diciamo in questo percorso di riflessione condiviso vorrei darti la possibilità di presentarti come hai detto tu sono marcello riccioni sono un insegnante di materie letterarie malgrado provenga da una facoltà sì di lettere filosofia però che aveva così l'ambizione di formare quelli che poi sarebbero dovuti andare a lavorare all'interno del ministero dei beni culturali quindi ho una formazione più legata alla storia dell'arte io ho una specializzazione in pittura veneta del 5 600 che mi sono sempre portato dietro e che mi ha portato a fare la tesi di laurea appunto su questi artisti straordinari poi per qualche strano motivo forse voluto dall'universo oggi mi dico mi sono ritrovato nella scuola finito l'università faccio uno stage al vittoriale degli italiani quindi vengo preso prima come guida poi come ricercatore all'interno dell'archivio e da lì poi mi è arrivata questa lettera d'ingaggio in una scuola paritaria ed è iniziata un'avventura che non ho più lasciato perché dal primo giorno in cui sono entrato in classe ho capito che quello sarebbe stato davvero sembra un po romanzata sta cosa però effettivamente così ho capito che quello sarebbe stato un punto dove curarmi dove guarire le ferite di un alunno che oggi non sono certificato non ho avuto diagnosi di dsa ma sicuramente ero un discalculico e ho capito che quelle difficoltà le avrei potute far comprendere no ai miei alunni e nello stesso tempo li avrei potuti aiutare è come dicevo 25 anni che insegno la mia traiettoria diciamo di insegnante cambia dieci anni fa quando viene a mancare uno studente un mio studente che per motivi psicologici suoi no decide di togliersi la vita questo era emanuele ghidini quindi da lì nasce anche una fondazione che padre ha voluto portare avanti e sta portando avanti e da lì mi sono trovato a fare incontri un po in tutta l'italia dove ho capito che c'era una necessità di dialogo tra famiglie e scuola no perché in un momento molto molto delicato della crescita dello studente che io lo chiamo studente però sostanzialmente l'adolescente è venuta a mancare no in questo in questo momento storico una rete educativa una rete educativa fondamentale per la crescita non solo didattica ma umana e da lì ho iniziato a fare questi corsi di autostima proprio dei UTC anche al metodo di studio che mi hanno visto un po protagonista all'interno di teatri all'interno di associazioni delle famiglie delle stesse scuole e poi il secondo momento in cui è cambiata la traiettoria del mio essere insegnante è stato quando ho cercato di capire cosa fossero le emozioni nella didattica e allora lì mi sono aggrappato forse all'alluminare più grande che ho voluto conoscere che è appunto la professoressa Daniele Lucangeli sono andato a seguire il suo master all'università di psicologia di Padova e questo mi ha aperto proprio il mondo facendomi anche capire che quello che facevo all'interno della classe e quello che avevo fatto all'interno della classe era qualcosa di buono e quindi per me è stato un ulteriore passo per curare tutte le mie fragilità tutte le mie perplessità no perché io spesse volte quando incontro una classe dico sarò in grado di gestirla sia da un punto di vista didattico quindi delle conoscenze ma anche dal punto di vista del loro stare bene punto di domanda e lì quindi ho acquisito tanta 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 conoscenza ma soprattutto incontrato straordinari docenti che mi hanno fatto capire effettivamente cos'era il mio essere dsa il fatto di avere un disturbo e come un insegnante potesse aiutare i propri studenti e oggi collaboro con diverse equip pedagogiche formate da psichiatri neuropsichiatri psicologi la parte pedagogica ho avuto la fortuna di incontrare daniele novara con il quale ho fatto la scuola di counselor maieutico e quindi sono stato a proprio studiare a piacenza il centro psicopedagogico tutta la parte legata alla gestione del gruppo per esempio piuttosto che il colloquio maieutico che mi serve molto 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 nel confronto con i genitori che sono una parte che io curo molto nel mio essere insegnante perché prima vado dei genitori e cerco di capire cosa c'è lì e poi ovviamente davanti al mio studente riesco a trovare delle strategie quelle più idonee no quelle più adatte quelle più sensibili in quel momento per riuscire ad aiutare e quindi questa è un po' stata la mia formazione negli ultimi negli ultimi anni sono felicissimo che l'università di padova attraverso il mind for children che è uno spin off dell'università mi abbia accolto come formatore quindi oggi ho anche la fortuna di girare tante tante scuole incontrare tanti insegnanti che hanno le mie stesse difficoltà le mie stesse fragilità e con loro posso portare tutto quello che mi è stato donato veramente donato in questo anno di studio forse è nato ho fatto una fatica boia perché mettersi a studiare a 50 anni caspita ho capito come le memorie anche di un cinquantenne funzionano e quindi questo è il mio percorso insomma di insegnante amo amo il mio lavoro tantissimo e tu adesso insegni storia dell'arte quindi no io adesso insegno italiano materie umanistiche però è bella questa cosa del poter affrontare un argomento e una disciplina attraverso le multiconoscenze no cioè per esempio è stato bello liberarsi da un modello di cultura che sono riuscito a un certo punto a capire ma questo mi hanno aiutato tanto i miei studenti no a capire che non siamo troppo settoriali cioè che non c'è l'umanesimo per rinascimento ma c'è un tutt'uno che si genera attraverso la società il contesto religioso il contesto dell'uomo no l'uomo faber che che fa e che crea quello che poi noi siamo costretti in un certo senso ad etichettare e nella letteratura funziona nello stesso modo cioè non possiamo dire che pirandello faccia parte del decadentismo sì certo lo abbiamo etichettato lì però pirandello faccio un esempio fa parte invece di un contesto che va da 800 fino al 2024 perché oggi se parlo di pirandello all'interno delle classi loro lo capiscono lo portano dentro ma perché perché lavoriamo sulle maschere per esempio quindi riuscire a rendere contemporaneo qualcosa che ci ha lasciato da un punto di vista storico ma che è con noi da un punto di vista dei contenuti quindi l'universalità dei contenuti no e questo puoi farlo parlando di una colonna io per esempio adesso avrò questo incontro a varese mi sembra una scuola varese dove incontrerò non so se 100 200 genitori e lì partirò da michelangelo mi sembra tu abbia un approccio multidisciplinare anche se insegni magari solo una disciplina ma in realtà le connessioni con tutte le altre discipline sono presenti nelle tue lezioni giusto certo ma perché è presente nella vita dell'uomo il nostro cervello non è fatto di compartimenti stagni ma quello che ha provato van gogh a dipingere la sua notte stellata probabilmente l'ha provato ungaretti nello scrivere le sue poesie rispetto a questo mi hai fatto venire in mente che come sai io insegno storia e filosofia ti faccio un esempio leopardi è considerato un poeta e lo è sicuramente un grandissimo poeta però a mio avviso io che a 16 7 18 anni mi leggevo lo zibaldone di pensieri tutte le sere prima della letto secondo me lui è anche un grande filosofo e non a caso è stato letto da schopenhauer nell'ottocento e soprattutto un grande filosofo il naufragarme dolce in questo mare non è poesia è filosofia lo zibaldone è un diario filosofico se vai a leggertelo è veramente illuminante da quel punto di vista marcello se ho capito bene in un certo senso tu hai avuto la capacità di sfruttare le tue stesse difficoltà come alunno e da solo in qualche modo hai usato questo per diventare più sensibile più attento a certe dinamiche didattiche e in un secondo momento hai trovato diciamo una base teorica facendo i corsi a padova su questo quindi è interessante che ci sia stato prima da parte tua una sorta di o intuizione o apertura a queste tematiche e poi un approfondimento ulteriore è andata più o meno così è andata così diciamo che l'aver seguito e l'aver studiato la parte pedagogica e psicologica soprattutto delle emozioni è stata una conferma di quello che già io dal punto di vista intuitivo facevo all'interno delle classi vedevo e riscontravo qualcosa di bello nei miei studenti come per esempio adesso non voglio dire la passione però la semplice attenzione il fatto comunque di instaurare un rapporto di fiducia che diventasse anche una fiducia didattica questo per me era importante cioè se è piaciuto a me può piacere anche a te se questo ha cambiato me può cambiare anche te e questa intenzione che io mettevo l'ho sempre messo nelle mie lezioni a un certo punto volevo un po capire perché funzionava questa cosa ed è il motivo per il quale negli ultimi anni ho fatto questo percorso che ho prima raccontato per esempio un altro percorso che a me è piaciuto molto prima di tutto questo che ti ho detto è stato quando sempre una decina d'anni fa ho capito che ero un po in crisi non riuscivo tanto ad agganciare la parte emotiva dei miei studenti cosa che mi sembrava quanto facile per me è sempre stato facile avere una classe di 10 di 20 di 50 di 100 per me non è mai stato un problema no dal punto di vista dello stare con loro o comunque della parte della disciplina del controllo e ricordo di aver approfondito tutta la parte delle micro espressioni facciali no quindi mi piaceva andare in classe li avevo presi come miei esperimenti però loro mi diceva prof ma adesso non possiamo più raccontare i bugie e ho fatto questo piccolo master sulle micro espressioni facciali come riconoscere praticamente come stanno a me interessava sapere come stavano prima di interrogare uno studente devo capire se questo veramente sta male e sta sforzando la sua mente l'analisi della mimica se ho capito bene sì 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 non verbale però c'è proprio una scienza di questo grandissimo antropologo che è paul ekman che insieme a frisen ha studiato per tantissimi anni le micro espressioni facciali come qualcosa di universale quindi partendo dalle sette emozioni sei in realtà emozioni fondamentali no che sono la paura la sorpresa la tristezza il disgusto e queste compaiono sul volto nel momento in cui tu le solleciti rispetto alle domande che fai e lì capisci però io ero arrivato a capire questo mi faceva ridere perché mi dicevano prof ma è inutile che le dica che ho studiato se poi le capisce che non ho studiato questo è stato un passaggio che a me è stato anche ludico se vogliamo però mi è servito molto perché anticipavo quella che era tutta la loro parte emotiva no e capivo se in quel momento potevo intervenire dal punto di vista pedagogico anche cioè educativo o magari dovevo rallentare quelle che potevano essere i miei processi di insegnante che in quel momento voleva l'interrogazione voleva la performance le aspettative ecco la parte delle aspettative e questo mi ha aiutato a ri riagganciarli ri riagganciarli quindi se ho capito bene la tua attenzione alle reazioni emotive degli studenti ti permette intanto di capire se ti stanno seguendo come stanno reagendo alle tue lezioni magari quali necessità possono avere senza manifestarli in modo verbale assolutamente in un certo senso riesci a essere più agganciato a loro e a farli sentire anche in qualche modo al centro della tua attenzione sì proprio così non ho toccato l'argomento lezione però nel momento in cui tu spieghi e dei loro sguardi dei loro volti da quello che esprimono nelle loro unità d'azione no del volto rispetto a quello che tu fai quello che tu dici spiegando no magari stai spiegando storia stai spiegando letteratura stai spiegando anche grammatica e lì capisci perfettamente se quello che tu stai dicendo sta entrando in loro e sta modificando quella che è la loro conoscenza questo è davvero affascinante perché ti permette di passare dal pronome relativo alla bardelletta e lì riesci ad avere il gruppo classe sempre magari non attento però un po sul pezzo perché riesci proprio a riprogrammare la loro attenzione la loro motivazione ti dico da un po di anni ho fatto questo esperimento magari all'inizio dieci anni fa un po mi irritavo quando c'era qualcuno che si distraeva adesso ho adottato questa strategia cioè io mi fermo e accendo i riflettori sulla persona che sta parlando ma non in senso polemico e dico ma è una cosa interessante vuoi dirla davanti a tutti dai parliamone no e questa attenzione che lo studente sente su di lui si trasforma poi in una reazione in cui lo studente si sente più ingaggiato più responsabilizzato e allora è più portato anche a stare attento magari non è la stessa cosa però in un certo senso mi sembra che solo la direzione sia quella che tu hai no è proprio è proprio quello è proprio la stessa cosa è proprio la stessa cosa perché all'interno della gestione del gruppo c'è sempre la gestione del finto attento che oggi tra l'altro viene considerato anche nel fenomeno dell'abbandono implicito no guarda sono usciti andrea pochi giorni fa sul giornale brescia questi dati allarmanti sull'abbandono scolastico sul brescia oggi chiedo scusa no giornale brescia sul brescia oggi vabbè sono dati che appartengono al ministero quindi ogni regione ogni anno pubblica noi negli ultimi quattro anni abbiamo avuto una dispersione scolastica di circa 8.700 studenti e senza considerare altri 2.700 che sono passati da una tipologia di scuola all'altro soprattutto dal dici o si spostano verso gli istituti tecnici sono dati allarmanti rispetto anche quello che stavamo dicendo prima perché noi consideriamo quello che ha tra virgolette il coraggio di dire non ce la faccio e mollo la scuola io come counselor ormai eutico oggi seguo tanti tanti studenti ma non studenti che non hanno voglia di studiare studenti bravi studentesse veramente che performano che riescono ad avere le loro medie queste maledette medie che riescono a stare sul pezzo sui voti ma che non ce la fanno non ce la fanno perché perché sentono che tutto quello che stanno facendo non è proiettabile in un loro presente ma soprattutto in un loro futuro cioè si chiedono perché sto facendo questo e forse questo andrea dovrebbe essere la prima domanda la quale noi insegnanti oggi è in questa parentesi culturale storica della scuola dovremmo oggi essere in grado di rispondere a delle domande che sono dei prerequisiti perché loro possano poi consegnarci la fiducia e poi quello che è il processo della motivazione loro non sono motivati e fanno questo è uno dei corti circuiti emotivi insieme a quello che poi giustamente dicevi tu no tu ingaggi uno che dice qualcosa la prima emozione che emerge è quella della vergogna quindi di cos'è che mancano questi ragazzi mancano del coraggio ci hanno la paura ma l'antagonista della paura è il coraggio quindi noi dobbiamo lavorare sul coraggio e quanti poeti quanti artisti coraggiosi abbiamo conosciuto nella nostra storia di studente ma anche nella nostra storia di paese italiano tantissimi c'era chi si arrampicava 40 metri per dipingere dico una sciocchezza o c'era chi si si sbranava la mente per riuscire in otto mesi a scrivere quel capolavoro che è l'infinito stavamo citando prima no e lì è coraggio coraggio di dire coraggio di affermare e di affermarsi questi sono dei temi importanti oggi perché non c'è processo didattico che sia distinto da un emotivo non esiste da un punto di vista neurobiologico cioè tu impari se hai un'emozione che scrive quello che sta imparando è meravigliosa questa cosa che ho detto se ci pensi è pericolosa può essere pericolosa se viene mal interpretata dallo studente o comunque se tu non attivi un'emozione per imparare perché nel momento in cui tu puoi non attivare un'emozione no se devi imparare il parcheggio all'ikea cioè non è che ti perturba qualcosa cioè ti perturba l'idea di non ritrovare la macchina quando rientri però lì c'è una memoria predisposta che si chiama memoria di lavoro memoria brevissimo termina breve termine che ti dice dove tu hai parcheggiato la macchina o se adesso ti dicessi delle tre chitarre che io vedo qual è quella azzurra parte che la vedi anche tu probabilmente la tua memoria breve termine ti direbbe quale mezzo ok perché hai un'immagine e noi lavoriamo noi oggi scuola lavoriamo troppo sulla memoria breve termine ma la memoria breve termina due processi importanti me li hanno insegnati non sono un neurofisiologo non sono uno che studia il cervello per l'amor di dio mi allontano da questa però mi hanno insegnato che la memoria breve termine ha due processi fondamentali che sono cleaning e pruning cioè pulizia e potatura cioè io studio studio la guerra dei trent'anni perfetto ma se poi quella io non la porto all'interno di un'altra memoria che è quella di elaborazione e che mi permette di scrivere quello che mi è piaciuto di quella cosa automaticamente il mio cervello prende tutta quella cosa che io ho studiato e la deve eliminare va bene eliminare perché tu pensa quanto è studiato se ti facessi questa domanda andrea sono più le cose che ricordi o quelle che non ricordi penso la seconda e sì e meno male perché sennò mi viveremo nella follia no delle informazioni però quelle che tu ricordi sono quelle che hai portato dentro e che hanno determinato il cambiamento questo cambiamento si chiama sostanzialmente orientamento perché io cambio quello che è il tuo setting perché ti sto orientando verso quello che è qualcosa che tu hai dentro no che può essere il tuo talento la tua ghianda il tuo chiamalo come vuoi e senti marcello com'è che reagiscono gli studenti a questo tuo approccio didattico a questa tua particolare attenzione alle loro reazioni emotive ah beh te lo dico con una parola strambo nel senso che non so se sei anni fa circa sì sei anni fa sei sette anni fa in un tema io faccio scrivere veramente tanto corrego poco corrego poco ma faccio scrivere tanto e in una traccia nella quale loro si sarebbero dovuti confrontare con persone che avevano determinato un cambiamento questa studentessa scrisse appunto di me dedicandomi due tre righe e poi c'è anche questo insegnante che non saprei come definire cert'è che è un profe strambo e da lì è diventato un po' un brand ricordo che in un equip con uno psichiatra con il quale ho collaborato in alcuni corsi di formazione in una tavola rotonda mi disse ma guarda che strambo da fino ottocento fino agli anni sessanta del novecento era colui che poi veniva ricoverato all'interno di questi istituti c'è stato un incontro meraviglioso che io ho fatto ho avuto la fortuna di fare una frequentazione anche possiamo dire perché non ci siamo visti troppo però un po' ci siamo incontrati con Aldamerini e io lì ho ridefinito questa figura di profe strambo perché parlare con lei parlare significava sostanzialmente ascoltarla quindi tu ti mettevi lì e in una quiete poetica veramente poetica ascoltavi le poche parole che ti diceva ma quelle poche parole erano talmente piene ricche di qualsiasi verità per cui io lì mi sono portato via una grande lezione che non è quella che ho che faccio che è quella della semplicità della semplicità mi piacerebbe raggiungere ma non credo di avere le possibilità di farlo raggiungere quella semplicità dialettica quella semplicità del fluire della parola che non è l'ermetismo però che diventa qualcosa di talmente puro che quella è la verità ogni tanto ci sono delle intuizioni quando faccio delle lezioni mi accorgo che riesco a portare fuori quel tipo di verità quel tipo di semplicità i miei studenti capiscono immediatamente quello che voglio dirgli se stiamo parlando alcune tematiche a livello storico soprattutto ma che anche grammaticali quando in quel momento io sono connesso con loro cioè c'è un qualcosa che mi connette a loro che è qualcosa di potente e quel qualcosa di potente proprio la semplicità a loro il concetto entra subito quando cerco di fare tutte le mie lucubrazioni mentali perché voglio che loro capiscono ma capiscono andando oltre e loro mi guardano e capisco questi sguardi cosa sono mi ha fatto venire in mente un professore universitario dell'università di padova franco chiereghin un mio grande professore di filosofia che forse è il primo che è riuscito davvero a far capire hegel fino a quel momento non avevo capito probabilmente e mi ricordo che alla fine di un corso lui ha detto questa frase la cosa più difficile per un buon insegnante è spiegare in modo semplice e in un certo senso mi ha fatto venire in mente anche cartesio perché la prima regola del suo metodo è quella dell'evidenza cioè si accetta come vero solo ciò che è chiaro ed evidente se non lo sai spiegare in maniera semplice perché non l'hai capito anche tu e da lì comunque nasce nasce appunto il profe strambo che oggi è diventato un piccolo brand per cui quando mi chiamano chiamano il profe strambo e non chiamano il profe marcello rizioni sei stato battezzato da una studentessa praticamente sì sì quindi insomma per tornare alla domanda di prima un po' l'effetto è quello della stranezza cioè ti trovano strano ma probabilmente in senso positivo no perché gli spiazzi e perché il tuo approccio non è comune non è così diffuso probabilmente sì 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 infatti i problemi sono più quei colleghi che con i miei studenti ecco poi magari approfondiremo anche i problemi no che ci sono nel rapporto con altri colleghi che magari hanno altri approcci didattici ma senti a proposito di semplicità e chiarezza volevo chiederti riusciresti quindi a ridurre il tuo approccio didattico in qualche elemento fondamentale per spiegare a chi ci sta ascoltando concretamente no in cosa consiste allora il primo approccio è quello che chiusa la porta il rapporto che c'è tra insegnante e alunni e studenti è un qualcosa di intoccabile questo per me è un presupposto fondamentale cioè non entra le burocrazie non entrano le problematiche non entra nulla io chiudo la porta dell'aula in quel momento io ho la possibilità di modificare quindi primo presupposto l'intenzione di modificare il loro stato attuale cercando di farli evolvere no quelle che sono le loro propensioni poi ti dico il mio metodo se può essere definito metodo è sicuramente quello dell'ascolto dell'ascolto emotivo perché solo attraverso l'ascolto emotivo che io posso predisporre poi il mio cognitivo cioè la mia parte didattica non sto mai seduto mai 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 seduto questo non è una tecnica o forse lo vuole essere però mi piace che loro abbiano uno sguardo dal basso all'alto non dall'alto al basso giro molto tra di loro a volte mi ritrovo anche a dare delle piccole pacche no sulle spalle sulla testa piccole carezze mentre loro svolgono degli esercizi o comunque fanno dei compiti se vedo che si stanno sforzando questo va a incastrarsi con la zona di sviluppo prossimale no cioè capire quando lo studente è in grado di fare il passaggio di comprensione che tu desideri lui faccia questa è la grande difficoltà però lì ci arrivi non coi corsi di formazioni ma ci arrivi con la tua sensibilità cioè più conosci te stesso e maggiore la possibilità che tu possa conoscere gli altri un altro aspetto che sicuramente mi caratterizza è quello del lavoro maieutico questo mi caratterizza molto cioè io parto da degli stimoli e poi faccio in modo che loro possano determinare le domande su quegli stimoli e fargli capire che poi rispondendo a quelle domande che loro hanno fatto sullo stimolo che può essere un video può essere una semplicissima fotografia può essere un frammento di articolo di giornale loro sviluppano le domande e quando rispondono a quelle domande spesso lo fanno in gruppo determinano che cosa la conoscenza che poi ritrovano sul libro e quindi io non parto dal libro ma parto da loro per arrivare al libro questa è un'esperienza che io quando faccio i corsi di formazione cerco di spiegare di farla quantomeno sperimentarla per capire come la lezione frontale che io non sono contro la lezione frontale per l'amor di dio però bisogna vedere come tu questa lezione riesci a renderla coinvolgente no poi ecco l'ultimo aspetto che posso dirti è quello legato proprio alle loro emozioni e lì ci vuole formazione però lì devi essere formato perché non ti basta il tuo sé ma devi capire anche che quelle emozioni interagiscono con le memorie in modo diverso e quando lo sai le rispetti e se le rispetti accorci i tempi della comprensione dei contenuti dei tuoi studenti è interessante il fatto che quello che per molti docenti è il punto di inizio cioè il libro i contenuti per te sia il punto d'arrivo no del percorso didattico giusto io non ho più bisogno del libro cioè oggettivamente allora ti dico a parte che oggi con le fonti che abbiamo con la possibilità che abbiamo di accedere alle conoscenze il libro mi interessa perché diventa un processo di focalizzazione diverso allora mi interessa che loro lavorino sul libro ma perché perché so per conoscenza acquisite che una delle difficoltà che oggi hanno è la focalizzazione profonda a parte che ci sono libri oggi di storia che se tu li confronti con quelli dieci anni fa non avrebbero modo di esistere ok perché nucleano già il concetto pieni di immagini di sollecitazioni ma spesse volte anche distribuiscono talmente tanto le informazioni che diventano molto molto difficili poi da ricostruire o comunque da dare un ordine a me piace lavorare per esempio tanto tanto sulla schematizzazione cioè sugli schemi perché diventano un processo quasi artistico e io vedo degli schemi io non so fare schemi perché sono pure disgrafico ok quindi mi metto a fare schemi ho fatto tantissimi schemi però se oggi vedo gli schemi dei miei studenti quasi soffro per il fatto di non riuscire a determinare lo stesso ordine e dallo schema tu capisci come uno struttura le conoscenze quindi lo schema però è un lavoro profondo e tu hai bisogno di avere questo lavoro profondo perché tu considera che oggi loro sono abituati a processare tutto adesso faccio retorica però sono abituati a processare tutto attraverso questo tra l'altro fanno anche dei movimenti che sono contro la scuola perché io per esempio il video lo guardo così ma il libro io ti insegno a studiarlo così tu dici e che differenza c'è è una differenza fondamentale di tecnica di memorizzazione perché se io così e non memorizzo niente dei 300 video che vedo e dei 2400 touch che faccio circa al giorno questi sono i dati apple va bene nel momento in cui ti metto a studiare e tu devi fare dei movimenti che devono essere dei movimenti un po più lenti devono essere dei movimenti in cui gli occhi si focalizzano su certe parole quella parola la devi saper collegare per coerenza e coesione a tutto il resto quello è un processo che se io non ti abituo a fare tu non imparerai mai ecco allora che rimani sempre in un linguaggio di memoria breve termine dove c'è un linguaggio superficiale dove ti ripeto le tabelline 2 4 6 8 10 o di ad a in consu per tra poi ti metto a riconoscere queste cose e tu non me le sai perché le hai si automatizzate ma non le hai portate nel pensiero profondo quindi il libro è sì fondamentale ma prima del libro ci vuole la domanda perché la domanda è l'espressione massima dell'intenzione dello studente di imparare tra l'altro su questo parlavo in qualche episodio precedente quando ho notato magari quando ho fatto il sostegno che per alcuni docenti le domande diventano quasi un elemento negativo durante la lezione secondo me lì crolla proprio l'apprendimento no cioè perché è dalla domanda che parte tutto dal desiderio di capire qualcosa no sì no no lì è finita se tu non permette di fare le domande ai tuoi studenti cambia lavoro sì e il problema è che alcuni docenti vivono con ansia no il fatto magari di non riuscire a rispondere a qualche domanda e allora si proteggono respingendo le domande o disincentivandole in qualche modo invece bisogna fare esattamente il contrario io ti dico all'inizio quando ho iniziato a insegnare io avevo paura delle domande perché avevo paura di risultare ignorante perché mi sentivo ignorante quando ho iniziato no tante cose non le sapevo anche adesso sono ignorante però mi sento meno ignorante di 10 anni fa e paradossalmente adesso molto più spesso di 10 anni fa dico non lo so e quando dico non lo so quel momento in cui loro chiedono a me si trasforma in una ricerca comune no diciamo proviamo a rispondere assieme a questa domanda e lì vedo uno switch che a loro piace moltissimo perché si sentono protagonisti di un processo di conoscenza sì lì bisogna stare un po attenti rispetto alle discipline andrea perché ci sono delle discipline che determinano più sicurezza altre discipline che determinano pensiero che non va alla ricerca di come noi intendiamo la sicurezza no avendo fatto tu filosofia il grande dibattito tra scienza e fede no allora per esempio la matematica è una disciplina che non ha uguali non ha uguali da un punto di vista dell'interesse nel momento in cui uno è interessato cioè ha dei risultati in matematica ci sono dei processi soprattutto legati alla serotonina che sono neurotrasmettitori cioè quando ti arriva il risultato c'è un processo anche di dopamina addirittura quindi di dipendenza tu vuoi fare qualcosa altro per chiarire in te che quella matematica ti è entrata no sei riuscito ad automatizzarla e renderla tua cosa che per esempio uno studente non avrà mai mai in un percorso legato alla struttura di una poesia piuttosto che ha il significato di una poesia quindi ci sono davvero diversi livelli di interesse che vanno a formarsi la matematica è potentissima noi filosofi cioè tu filosofo io un po legato alla letteratura facciamo molta più fatica ad agganciarli lì però è meraviglioso quello che hai detto tu quando dici che nel momento stesso in cui loro ti fanno una domanda non ti chiederanno mai quando è nato pirandello perché se te lo chiedono è perché tu gliel'hai detto loro non l'hanno capito più che capito non lo hanno ascoltato allora ti chiedono scusi quando è che è nato pirandello va bene però il fatto che loro ti vadano a sollecitare delle domande è perché non sono domande che hanno delle risposte oggettive vengono definite risposte generative quando i ragazzi ti fanno delle domande rispetto a dei contenuti queste domande hanno due nature una è sicuramente informativa perché se ti dicono ma sono stati sei milioni gli ebrei morti dico una sciocchezza adesso e chiedo scusa quella informativa certo che ce l'ho sul libro però posso dire anche andiamo a confrontare i dati in internet rispetto a questo dato che tu vuoi sapere perché poi vuoi sapere quella cosa lì ma altrimenti il 90 per cento delle domande sono tutte generative cioè generano risposte che non sono mai state date e quindi quello che dici tu Andrea è vero perché è dal loro linguaggio legato alle loro curiosità che nascono quelle domande che ti permettono di entrare in risposte che sul libro non trovi non trovi tra l'altro tu citavi la maietica mi sembra un po richiamare il metodo maietico di Socrate quando lui chiedeva che cos'è la virtù che cos'è il coraggio che cos'è la conoscenza dove in un certo senso non c'è una risposta predeterminata dove è proprio nel percorso del dialogo che si arriva a una possibile risposta e poi eventualmente la si mette in discussione trovando i limiti di quella risposta e poi se ne ipotizza un'altra è un po questo certo sì diciamo che poi questo dipende molto dall'età del tuo studente però per esempio laboratori di maieutica fatti anche sulla storia dell'arte in terza quarta liceo classico sono sicuramente diversi da lezioni maieutiche che svolgo oggi per esempio in una terza media dove mi limito a prendere le loro curiosità e poi a fargli sviluppare a loro le risposte rispetto a quell'argomento quindi insomma se ho capito bene l'empatia e il metodo di studio sono due elementi centrali della tua didattica giusto hai capito perfettamente ok e mi sembra anche di aver intuito che in un certo senso dimmi se sbaglio tu sia diventato l'insegnante che forse avresti desiderato avere quando eri studente no perché facevi riferimento un po le tue difficoltà e volevo chiederti a fronte di queste difficoltà in un sistema diverso immagino da quello di oggi com'è che ti sei trovato com'è che si sono messi in relazione con te gli insegnanti che hai avuto io rispetto a questa cosa che mi chiedi ti dico che sono stato fortunato ad incontrare insegnanti io all'istituto superiore di sanità quando venne chiamato pre covid considera pre covid per ricevere dei dati di questa commissione europea hbsc che sono dati sul benessere dello studente no e portai la mia pagella considera che io dalla scuola media sono uscito con la sufficienza no ci sono stati degli ciampi importanti sicuramente importanti sto dicendo che io fossi uno studente ligio al dovere sempre pronto a rispondere però ero uno studente che viveva di sacre intuizioni oggi no le chiamo perché facevo fatica avevo delle fatiche a costruire le conoscenze ma nello stesso tempo però mentre leggevo il mio cervello illuminava altri settori nelle mie conoscenze e quindi per esempio facevo dei collegamenti cosa che all'interno della classe non erano previsti quindi collegamenti con qualcosa con un sentire di uno piuttosto che però ci sono stati degli insegnanti che secondo me hanno segnato la mia strada la mia insegnante di italiano che oggi non c'è più quando spiegava epica catturava la mia attenzione e io mi scioglievo no di fronte a quello che le spiegava quella di matematica invece no perché non capiva come io non potessi processare certe cose che a lei risultavano semplici quindi due terzi più quattro quinti guarda che io oggi faccio ancora delle lezioni di matematica mi fermo a fare matematica con i miei studenti quando c'è il profe di matematica che mi fa rimanere dentro e alcune volte loro mi spiegano mi dicono io processo in quel momento ma non automatizzo quindi per me il minimo come multiplo il minimo come un denominatore certo che li capisco quando me li spieghi però poi non rimangono non rimangono nella mia memoria no e quindi ho incontrato insegnanti che hanno capito veramente capito e che mi hanno accompagnato ho incontrato insegnanti che hanno giustificato questa cosa cioè che non si sono messi a giudicare ci sono semplicemente messi in una condizione neutra e dicevano vabbè tu sei così però sono quegli insegnanti che oggi quando incontro soprattutto della scuola superiore no mi dico ma tu pensa cosa sei riuscito a fare no perché poi dietro questa cosa ovviamente sono anche dei saggi che ho scritto legati appunto alla scuola al metodo così alla relazione che ci può essere tra un insegnante un alunno l'ultimo che si intitola non solo qui mi sono permesso di intitolarlo così proprio perché finalmente avevo capito cosa fosse questo manetto quoziente intellettivo e io ho detto ma ci sarà anche un QE ci sarà anche un quoziente emotivo e allora ai massimi esperti l'ho chiesto l'ho chiesto e loro mi hanno detto c'è c'è esiste esiste e come si fa a rilevare si no in realtà adesso ci sono delle batterie testistiche oltre alle deviazioni standard di un QE che solitamente 100 no nella curva gaussiana media 100 va da 90 la media la media è 100 poi tu hai ti puoi spostare no o in più o in meno rispetto a quelle che vengono definite appunto le deviazioni però poi ci sono anche delle batterie adesso testistiche belle tra l'altro belle insomma interessanti che vanno a toccare soprattutto quelli che sono dei disturbi legati a certi processi di emozioni sono i DOP vengono chiamati disturbo quegli oppositivi no quelli provocatori e allora lì fanno delle batterie testistiche legate proprio a come loro gestiscono certe emozioni come per esempio la rabbia però secondo me si arriverà si arriverà perché il processo la letteratura ci sta richiamando pensa solo a certi neuropsicologi e neuropsichiatri che hanno scritto non so gole ma adesso te ne cito uno sulle varie intelligenze emotive ma ma questo davvero è quello che è riuscito più a rendere fluido una scienza che oggi beh io adesso ti cito rizzolatti che è quello che ha diciamo scoperto e capito è la funzione dei neuroni specchio no che poi sono alla base dell'empatia sostanzialmente cioè non ho sete però ti vedo bere a un certo punto mi viene sete ma com'è sta storia no e questa metafora che ti ho che ti ho citato porta là all'interno di una classe cioè tu entri in classe e dici spieghiamo pascoli loro a non sanno chi è non sanno che tipo di spiegazione tu debba dare e non sanno quali contenuti tu gli stai offrendo e non sanno se è facile non sanno se è difficile ma sanno solo che te lo dovranno restituire quindi ecco che ci deve essere una direzione dell'apprendere che daniela lucangeli chiama il da dentro dentro cioè io prima ti devo offrire quello che ti devo spiegare dopo che te l'ho offerto certo che la mia questo è quando lo dico degli insegnanti ma come quindi noi siamo sullo stesso loro livello no no perché tu sei quello che sai tu sei quello che conosci ma tu non sai ancora come portare quella conoscenza all'interno di quella testa che in quel momento non sai se è predisposta ad accogliere quello che stai dicendo allora prima ti predisponi il da adentro adentro prima ti predisponi a conoscere se lui è in grado di e come fai e beh fai delle domande ancora la domanda per esempio una cosa che utilizzo molto è la memoria biografica cioè se io dico che manzoni a me non mi ha mai particolarmente entusiasmato già questo è un processo di osmosi didattica perché mi permette di entrare nella possibilità che a loro quella cosa lì non piaccia scusa alessandro quell'autore lì non piaccia no quindi invece di pretendere che siano loro automaticamente a venire da te sei tu che vai a prenderli in un certo senso sì questa è la scuola tradizionale no ma è la scuola tradizionale davvero degli anni 30 anni 40 perché già negli anni 50 la scuola era diversa 50 60 ma la scuola degli anni 40 30 40 era la scuola dove tu andavi e ricevevi per esempio ho notato ho notato che ci sono a livello mondiale in condizioni sociali molto povere molto molto povere c'è ancora questo concetto di scuola perché la scuola è vista come la possibilità di un trampolino da uno stato sociale all'altro riscatto sociale è riscatto bravissimo e lo vedo per esempio in tutti i processi di inclusione no che noi abbiamo io ti devo dire la verità andrea dal punto di vista della motivazione non ho problemi con studenti che sono appena arrivati magari soprattutto dal medio oriente no quindi egitto pakistan problemi sulla motivazione ma davvero nulli c'è il problema della comprensione del testo ma sì ok però sono motivati anche perché loro sanno che lì si giocano molto della loro vita sì sì non danno nulla proprio nulla nulla per scontato anche chi ha avuto delle esperienze per esempio di vita in centro africa io ho avuto degli studenti del gana e caspita caspita che bello ma che bello poter interagire con loro anche magari abbassando quelle che sono delle pretese dal punto di vista di ragionamento però il fatto che loro si mettano lì e vogliano imparare dante cioè capisci e non si chiedono se gli servirà perché sanno che gli servirà prima di chiederti quali sono secondo te le maggiori criticità della scuola di oggi del sistema scolastico attuale mi aveva incuriosito il tema del QE e volevo chiederti ma qual è la media del QE no non c'è una media non è un numero ma è una è una sensibilità cioè ti va a misurare la possibilità che tu in quel processo tu senta quello che stai facendo no quindi come interagisci con certe emozioni che capacità hai di interagire con certe emozioni non ci sono numeri come può essere per il QE però ci sono delle predisposizioni no vanno misurare delle predisposizioni sì è predisposto a non è predisposto a ho capito e tu hai fatto un test per rilevare questo il mio io sono arrivato addirittura a un QS che è un quoziente spirituale lo sto pensando te lo dico perché sempre in sede universitaria ho detto ma sì ma adesso che poi siamo arrivati al QE che è il quoziente emotivo possibile che si possa arrivare anche a un QS e loro mi guardano un po così all'ibit mi dico in che senso questo è un quoziente spirituale cioè oggi a livello di neuroscienze anche no a me ti giuro guarda è stato veramente importante da un lato però affascinante ascoltare questi neuroscienziati meraviglioso ascoltare io a chi poi sentirà questa intervista invito ad andare a sentire e a vedere gli interventi di Daniela Lucangeli c'è questo questo aspetto del QS no che è proprio quello della coscienza bello questo sarebbe da raggiungere soprattutto nei licei e soprattutto ad una certa età nel momento in cui dai 17 ai 18 anni decidi quello che può essere effettivamente il tuo imminente futuro quindi tutta quella parte legata all'orientamento e lì se tu avessi un QS almeno parzialmente sviluppato che è la coscienza di sapere ciò che sei che è in evoluzione ciò che sei però ciò che sei in quel momento ti potresti predisporre quindi c'è anche la possibilità che si arrivi a delle batterie testistiche sul QS però adesso accontentiamoci del QS. Mi sembra che sia il tentativo di quantificare il conosci te stesso socratico ed elfico no in un certo senso ed elfico proprio sì sì e poi secondo me è rimasto ad elfico e il conosci te stesso è rimasto là è rimasto all'oracolo sì è rimasto come ideale regolativo per tutta l'umanità in qualche modo senti è arrivato il grande momento di provare in sintesi estrema ovviamente a mettere sul tavolo quelle che secondo te sono le maggiori criticità del sistema scolastico di oggi allora così dal mio punto di vista la maggiore criticità è il fatto che la scuola non sia un'azienda tantomeno non è una fabbrica la scuola no cioè non è il luogo nel quale noi omologhiamo ma è il luogo in quale noi scopriamo possibilità scopriamo capacità ma anche riusciamo a definire no quelle che possono essere io dico le anime però quello che può essere il futuro di tanti di tanti studenti intanto io sono convinto del fatto che abbiamo bisogno di più scuole proprio edifici cioè dobbiamo riconvertire la scuola no da quello che ho detto prima azienda a luogo di istruzione per esempio secondo me è importante che ogni dirigente scolastico gestisca non più di 50 insegnanti e non più di 200 studenti. Guarda proprio scusate Giulia Italiano che tu conosci la sua intervista abbiamo parlato di questo lei diceva che invece purtroppo sta venendo esattamente il contrario. No 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 il contrario certo io adesso sto dicendo la criticità è perché considera che oggi un dirigente è chiamato a gestire anche più complessi contemporaneamente considera 140 150 200 insegnanti con scuole di 1200 c'è un preside che magari deve gestire una scuola media una scuola elementare io le chiamo alla vecchia maniera però le primarie di primo grado una secondaria c'è veramente una confusione a livello dirigenziale a me spesse volte fanno veramente tenerezza tenerezza molti si lamentano no verso questi dirigenti presidi però caspita o tu formi manager ma i nostri presidi non possono essere dei manager cioè devono essere persone che hanno vissuto la scuola che sono state nella scuola che conoscono le criticità le problematicità della scuola una per esempio che oggi io credo che la scuola abbia bisogno di pedagogia no e non di psicologia clinica cioè va bene che ci possa essere uno psicologo all'interno della scuola mamma mia ma sostegno dei docenti e magari anche del personale scolastico in generis no giusto questo supporto ma non agli alunni cioè noi non possiamo pensare che i nostri alunni debbono determinare il loro equilibrio dove in teoria dovrebbero respirare benessere naturale no che è all'interno della scuola un'altra cosa che io proprio sento come necessaria e che ogni insegnante debba incontrare no cioè debba essere formato formato con progetti che nascono però non dalle intuizioni del dirigente o da me prendi me per esempio c'è chi mi ha detto di andare a padova chi mi ha detto di andare a incontrare daniele novara cioè nessuno mi ha spinto il QQS te l'ha detto sì hai partito da dentro insomma è certo perché comunque ho sentito una necessità ma una necessità che era diventata una sorta di urgenza perché come faccio a capire questo cioè arriva quello psichiatra che mi dice che devo far questo va bene che devo seguire una neurodiagnosi ma che cacchio è una neurodiagnosi cioè quando mi dici che è discalculico cosa che mi dici perché l'ICD11 mi dice cos'è un discalculico però io ho a che fare con un discalculico o anche con un umano con il quale devo interagire ecco e allora io credo per esempio che abbiamo bisogno proprio di formazione ma di una formazione che non è quello che arriva da fuori che ti dice delle cose molto generiche noi abbiamo bisogno di anni sabatici anche dove poter sfruttare delle scuole di pensiero che ci sono delle professionalità e andarle a incontrare poi ecco facciamo in modo che si possa distinguere l'amministrazione di una scuola la sua funzione più propriamente didattica ed educativa cioè l'insegnante non può pensare di essere assorbito e di essere asciugato prosciugato da tutto l'apparato burocratico che c'è no se io ti dico che solo per organizzare una gita ti fa passare la voglia di organizzare la gita uscita didattica è un momento straordinario però ti fanno veramente passare la voglia allora la parte burocratica è dell'amministrazione che è giusto che ci sia la parte didattica invece e poi non so oggi se tu ci pensi Andrea abbiamo filosofi abbiamo i crepè della situazione quindi i psichiatri abbiamo i galimberti abbiamo i da venia e abbiamo appunto i vari pedagogisti tra cui Daniele Novara e abbiamo i recalcati abbiamo tutti i genitori che vorrebbero fare scuola abbiamo anche cantanti datati che dicono nella scuola c'è bisogno di tutti che dicono la loro tutti 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 che esprimono un concetto un parere su come la scuola deve essere e producono progetti per me nella scuola dovrebbe entrare questo che poi se tu vai a vedere la parte psicologica di questi personaggi è che nella scuola vorrebbero quello che non hanno ricevuto perché se vado a vedere un galimberti filosofo straordinario che io ascolto con grande passione perché mi introduce in tematiche che io dal punto di vista artistico ho trattato però è bello sentire parlare di Schopenhauer da galimberti straordinario a meno per me però poi quando parla della scuola dico certo ma tu nella scuola ci sei cioè mi viene da dire questo no? Scusa questo progetto nasce proprio anche da questo perché paradossalmente quelli che parlano meno di scuola sono proprio gli insegnanti ne parlano tutti tranne noi no? Esatto poi ecco una cosa che io modificherei sono le priorità perché le priorità della scuola cambiano tu considera che oggi una generazione cambia ogni 3-4 anni nel 1960 cambiava ogni 20 nel 1990 cambiava ogni circa 8-10 oggi cambia ogni 3-4 anni cioè io ogni 3 anni ho un cognitivo con i quali mi devo raffrontare diverso quindi la cartina torna su lì quello che ti sto dicendo e quello che ci siamo detti prima sono appunto queste fragilità no? Che noi sforziamo 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 ma sforziamo su meccanismi o meccaniche che non funzionano con quel dato carburante cioè noi mettiamo benzina a cervelli che sono diesel sostanzialmente quindi pretendiamo delle performance che loro non riescono a dare è con gli abbandoni quindi la capacità nella scuola di ricreare e rigenerare lustro dopo l'uno no lustro cos'è 50 anni un lustro? 5 lustro e 5 ah ecco allora lustro dopo lustro rigenerare la nostra didattica tu considera Andrea il numero è chiaro è dalla prima elementare alla quinta superiore sono 12.630 le ore che uno studente sta in classe sono 202 giorni 6 ore al giorno fai il conto nei 13 anni perché 5 più 3 più 5 sono 13 anni sono circa 12.630 in 12.630 ore tu in un cervello puoi determinare o grandi danni o la possibilità che questo cervello possa entrare in un processo di autonomia decisionale però ci devi essere con un po' di conoscenza quindi di formazione e poi di convinzione perché qua poi chiudo l'ultima cosa che farei in una scuola che funziona è la scelta dell'insegnante cioè la scuola non può essere un ammortizzatore sociale cioè non esiste tu crea entusiasmo negli insegnanti e non processi di frustrazione negli insegnanti che si trovano nella scuola perché ma anch'io eh mi sono trovato nella scuola per caso però il giorno dopo non era già più per caso cioè la seconda lezione non è stata più per caso era già un desiderio di continuare quella cosa e ci hai detto un sacco di cose Marcello provo a riassumere quindi più scuole meno numerose quindi di conseguenza immagino anche più dirigenti perché se ci sono più scuole ma si è più dirigente e probabilmente anche classi meno numerose perché con classi da 30 alunni è un po' difficile riuscire ad avere un'attenzione come quella di cui parlavi tu prima sì lì dipende molto dalla formazione dell'insegnante io ti dicevo io non ho problemi nei 30 nei 50 nei 60 cert'è che le volte che mi sono trovato di fronte delle classi di 16 18 14 avevi la possibilità di fare una didattica diversa però non è tanto nel numero che io determino il successo di un insegnante perché lì ripeto poi capisci come gestire il gruppo automaticamente il gruppo si autodefinisce è un processo di autodefinizione del gruppo ok poi dicevi anche più pedagogia meno psicologia quindi meno medicalizzazione mi sembra di capire certo in qualche modo e più formazione e anche più capacità di stare al passo con i cambiamenti repentini delle generazioni quindi forse anche capacità di adattamento e quindi una formazione continua che ti permette di stare al passo con questo ok e poi questa passione che però forse è difficile appunto da generare dall'esterno ma che deve forse partire da dentro gli insegnanti in qualche modo sì che va curata ok bene e riusciresti proprio a mettere in luce magari uno o due aspetti positivi che invece secondo te sono già presenti nel sistema della scuola attuale beh io quello che noto è che c'è un corpo docente soprattutto nelle scuole superiori che ci crede non so forse perché li avrò incontrati ma sono quelli che chiamano sono quelli che vogliono capire sono quelli che vogliono un confronto più ti dico nelle scuole superiori però professionale licei fai tanta fatica perché sono strutture possiamo un po' parlare con un notaio con un medico no e sai quelle categorie che sono tali e sono intoccabili però una cosa che vedo che respiro nella scuola forse perché ne giro tante è la volontà e il desiderio di capire come aiutare i ragazzi questo questo c'è io lo riscontro poi un'altra cosa che già funziona già funziona nella scuola è la fiducia dei ragazzi nei propri insegnanti anche se non sembra i dati parlano al contrario anche se non sembra nel senso che loro sono molto critici no verso i propri educatori e invece i dati propendono quasi più per l'insegnante che per i genitori a maggior ragione dell'importanza del ruolo dell'insegnante all'interno della vita di uno studente caspita questo è una cosa che funziona che quando io sono andato a vedere i dati a Roma sempre nel 2018 e quando ho visto questo dato che tra l'altro è un dato europeo non è un dato solo legato all'Italia caspita mi sono sentito troppo bene perché vuol dire che i ragazzi nascondono quello che invece sentono che è la fiducia proprio la fiducia che credo abbia un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento tra l'altro perché senza fiducia è difficile apprendere impossibile senti Marcello prima di arrivare alla fine con l'ultima domanda che faccio a tutti cioè se hai dei consigli da dare ai nuovi insegnanti o ai neolaureati che si stanno affacciando nel mondo della scuola di oggi volevo porti un'ultimissima questione perché un paio di mesi fa ho intervistato un professore svedese che mi ha parlato della scuola svedese no e mi ha portato uno studio molto interessante in cui sostanzialmente emerge che a partire soprattutto dagli anni 70 si è dato tantissima importanza alle competenze rispetto alle conoscenze cioè le conoscenze sono passate in secondo piano però all'inizio degli anni 2000 si sono accorti questo è quello che sosteneva diciamo questo collega che i risultati proprio legati alla capacità di lettura di comprensione degli studenti erano drasticamente diminuiti al punto che addirittura adesso c'è un governo di destra che ha rimesso al centro le conoscenze al posto delle conoscenze e alcuni pedagogisti che invece sponsorizzavano quel tipo di didattica hanno fatto addirittura mia colpa poi se vuoi ti mando l'articolo che mi ha girato questo professore che è molto sorprendente no io volevo chiederti cosa pensi della didattica per competenze e del rapporto tra competenze e conoscenze girami questo articolo perché sono molto molto interessato a questa cosa il fatto che poi venga da una cultura più nordica mi sembra tu mi abbia detto dove loro fanno quello che ci siamo detti fino adesso cioè sperimentano sperimentano credo che un cortocircuito in quello che è stato detto probabilmente in questo articolo è il fatto che sono due funzioni diverse la conoscenza e la competenza sono due funzioni diverse cioè spiego metti la lettura e comprensione la lettura è un processo di decodifica la comprensione è un processo non di decodifica ma di unione di concetti che ti permettono di esprimere qualcos'altro no quindi quando tu leggi porti nella tua conoscenza qualcosa che hai già e quello è un processo come tu leggi è un altro processo quindi non è questione di dare la colpa a qualcosa qualcuno non è questione di dare la colpa alla conoscenza e la competenza perché essere competenti in qualcosa significa esperenziare nostro cervello ha bisogno di esperenziare quando io prima ti parlavo della domanda la domanda magnetica devi esperire no cioè devi portare fuori quello che tu hai sentito e fai esperienza di quella cosa la cosa più facile è che io ti possa dare un martello un chiodo ti metto un quadro nella stanza e tu capisci che attraverso il martello il chiodo hai bisogno di arrivare all'obiettivo di attaccare il quadro ma lo capisci tu non te lo dico io allora c'è sì un confronto tra conoscenze e competenze l'errore è quello di classificare la competenza come un qualcosa che derivi da una conoscenza cioè tu diventi competente in qualcosa se conosci quel qualcosa sì ti può aiutare la conoscenza cioè se io ho una capacità di decodifica di sei sillabe al secondo posso dire di comprendere quello che leggo assolutamente no sei sillabe al secondo è un normo dotato sei sillabe al secondo sei barra sette sillabe al secondo vuol dire che tu leggi in maniera fluente ma capisci non è detto c'è quella conoscenza di decodifica ti porta nella competenza della comprensione assolutamente no tu che leggi tre sillabe al secondo quindi magari sei anche un dsa no è un disturbo specifico che non ti permette di leggere bene riesce a comprendere ma probabilmente sì certo che è più facilitato chi ha una lettura fluente ma perché perché automatizza e sposta l'attenzione su altro quando tu vai in macchina non è che hai bisogno di qualcuno che ti dice quando cambiare come cambiare cioè il tuo cervello ha automatizzato l'automatizzazione altro non è che un alleggerimento del processo di comprensione perché 2 4 6 8 10 2 4 6 8 20 ok la tabellina del 2 che io ho automatizzato ho fatto fatica a dirtela assolutamente no ma perché l'ho automatizzata ok quell'articolo se c'è il pedagogista che fa me a culpa pedagogista deve andare a capire che pedagogista lavora su un determinato dominio mentre lo psicologo ok che dice no guarda che c'è bisogno delle conoscenze la lettura non è una conoscenza la decodifica una conoscenza ma la lettura diventa una competenza cioè paradossalmente il saper leggere il saper leggere come decodifica come ti dicevo prima non ti porta a essere bravo a scuola quindi so capito bene stai dicendo che si può essere ferrati in un argomento ed essere incompetenti e invece si può addirittura essere competenti e ignoranti certo sì 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 tu pensa un insegnante che parla dell'allevamento intensivo e pensa un contadino che parla dell'allevamento intensivo il contadino non ha mai studiato l'allevamento intensivo sui libri eppure quello che fa è qualcosa di straordinario rispetto a quello che è un allevamento intensivo o un allevamento a terra chiaro non so se mi sono spiegato un meccanico un meccanico che è esperenziato e non ha mai fatto una scuola di meccanica aggiusta un motore chi ha fatto una scuola di meccanica non sa aggiustare un motore questo è un altro elemento perché perché l'esperienza non è la conoscenza e sono due sono due proprio domini completamente diversi tu li unisci beh figata ma è meglio che un meccanico vada a studiare o che uno studi per diventare meccanico io ti dico il primo è perché tu parti dall'esperienza per arrivare alla conoscenza perché il meccanico poi gli arriva la macchina che non sa riparare e deve dire com'è che faccio e va nella conoscenza e tra l'altro se ho capito bene quello che è successo a te perché tu prima da solo sei riuscito in qualche modo a mettere in atto delle strategie quasi basate sulla esperienza tua e poi hai trovato il fondamento teorico di tutto questo io sono diventato studente in secondo anno di università lì sono diventato studente lì mi sono sentito di essere uno studente in ritardo sì però è arrivata lì bene allora chiuderei con la solita domanda di rito che però secondo me è importante cioè che consigli daresti a tutti quei non so 25 anni o 27 anni che si stanno affacciando magari sono al primo anno di insegnamento magari inizieranno a settembre prossimo anno cosa ti sentiresti di dire a tutti loro di trovare un equilibrio tra ciò che hanno ricevuto e ciò che dovranno dare sì perché spesso quando noi lo facciamo anche da genitore cos'è che accade daniele novara ce lo insegna questo perché un po' una sua teoria quella del copione educativo e gli insegnanti l'ho fatto anch'io no io per esempio inizio non so forse avrò dato due tre note all'inizio proprio primo anno poi è da 25 anni che non metto una nota perché parto dal presupposto che ci sono delle cose da condividere con la famiglia assolutamente ma quello che accade in una classe è roba mia cioè se uno è maleducato o fa qualcosa all'interno del gruppo non è che vado a dirlo alla mamma al papà ai nonni e comunico che c'è questa maleducazione cerco di gestirla poi se ci sono dei casi limite di maleducazione reiterate allora condivido con la famiglia no quindi questi copioni educativi un po' ci fanno perdere del tempo soprattutto all'inizio quando tu hai tanto entusiasmo ci sono questi insegnanti che entrano nella scuola e vedo che hanno tanto 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 entusiasmo quello che chiedo a loro è di formarsi è quello che dicevamo prima è di formarsi di non accontentarsi mai e soprattutto di non pensare che la scuola sia quell'ambiente o quell'istituzione che debba solo dare senza che tu debba effettivamente investire la scuola è un investimento quotidiano devono capire questo è un investimento emotivo e didattico anche quotidiano quindi formazione e forse anche il coraggio come c'è di sperimentare di non rimanere legati a degli schemi di insegnamento passati sperimentare 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 bene bene io con le domande avrei finito se c'è un'ultima cosa che ti senti di voler dire questo è il momento direi di lasciare i nostri ascoltatori di dire magari che mi possono trovare su facebook tu sei profe strambo giusto sui social sui social sono denominato così quindi ecco se hanno voglia anche di un confronto io sono nel tempo che ho insomma sono disponibile marcello sei stato gentilissimo disponibilissimo ho visto che finisci i tuoi post con ad maiora quindi chiuderei con ad maiora ad maiora grazie andrea